ciao a tutti ragazzi bentornati su registriamoci oggi parliamo di equalizzazione sottrattiva come avete visto in altri miei video io solitamente prima di iniziare a fare qualsiasi modifica una traccia applico un equalizzatore un equalizzatore che ha l'obiettivo di togliere tutte quelle frequenze che non mi piacciono a partire per esempio dalla famosa scatola che abbiamo visto mille volte in questo canale fino arrivare a tutte le frequenze risonanti che non mi piacciono come facciamo a riconoscere queste frequenze risonanti le frequenze risonanti sono solitamente quelle frequenze che hanno una durata nel corso del tempo maggiore rispetto alle altre frequenze e in più danno particolarmente fastidio al nostro orecchio per fare questi esperimenti andiamo ad utilizzare il progetto di come registrare mixare mettere a posto una batteria a casa in modo semplice se non avete visto il video vi lascio link qua sopra qua sopra adesso non mi ricordo da che parte sono andato a togliere tutti gli effetti tutti gli equalizzatori compressori che abbiamo utilizzato in quella sessione e oggi andremo ad applicare solamente gli equalizzatori con questa tecnica ok quindi andiamo sulla nostra do diamo innanzitutto un ascolto a ciò che avevamo registrato e poi andiamo a vedere come solitamente io mi approccio a queste situazioni ok solitamente parto mettendo un equalizzatore sul master che mi permette di sentire in solo le varie frequenze questo per capire che cosa sta succedendo all'interno del mio mix e capire anche poi che cosa dovrò andare a pulire quindi solitamente utilizzo un pro q3 della fab filter ok attivo una banda lascio un q abbastanza stretto di 2 3 più o meno neanche troppo stretto in realtà metto in solo e ascolto anzi vi lascio anche aperto qua in alto un pass frequency della waves così potete vedere quello che sta succedendo ok qua sento che ci sono i bassi della cassa qua sento un po' di basse del rullante che sicuramente andremo a tagliare perché non ci interessano ok perché qua è lo spazio dedicato alla cassa qua sicuramente c'è una risonanza della cassa che poi dovremo andare a mettere a posto qua è del rullante la sentite sentite che è una frequenza molto lunga che dà fastidio ecco queste sono le risonanze andiamo avanti qua abbiamo un po' di scatola che andremo a togliere qua abbiamo qualche risonanza degli over e qua abbiamo la scatola degli over sui 2000 hertz più o meno andiamo su ok qua abbiamo un po' di chiarezza sicuramente qua sento una risonanza vediamo dov'è sugli over eccola qua ok poi andiamo a vedere meglio perfetto quindi ora parto con un equalizzatore partiamo dalla cassa mettiamo in solo la cassa e andiamo pian piano a fare un po' di pulizia in questo caso non utilizzerò il pro q3 della fab filter ma utilizzerò il q8 della waves perché perché il q8 non non ha l'rta integrato e quindi questo mi permette di lavorare soltanto con l'orecchia e non farmi influenzare dall'rta del nostro equalizzatore quindi mettiamo in solo la nostra cassa carico un q8 della waves e la prima cosa che vado a fare è cercare innanzitutto la nostra scatola stavo editando il video e mi sono accorto che non vi ho mai spiegato cos'è la scatola per me la scatola sono tutte quelle frequenze mediose fastidiose che danno al suono quel senso di ovattato proprio come se noi stessimo parlando all'interno di una scatola non ho trovato una scatola per casa però ho trovato questo per farvi un esempio praticamente per me sentite tutte queste frequenze molto fastidiose ecco per me questa è la scatola ok bene possiamo andare avanti eccola qua taglio via quanto tagliare andate un po ad orecchie ok solitamente io non taglio troppissimo meno 3 meno 6 massimo poi andando a ascoltare nell'insieme magari taglio un po di più ok cerchiamo delle risonanze che prima le abbiamo viste qua sulle parti basse in questo caso stringo un po di più il q eccola qua via ok andiamo un attimo ok possiamo tagliare sotto i 30 hertz per fare un po di pulizia andiamo a cercare altre risonanze ok queste frequenze qua in realtà non mi piacciono troppo quindi via più stretto anche questa è un po fastidiosa sui 4500 4400 hertz via ok ora vado a matchare il volume cercando di avere un volume in 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 out uguali ok senza ok mi piace un po più chiaro andrei scavare ancora un po qua ok mi piace mi piace snare up vuoto come prima andiamo a cercare subito la scatola qua sicuramente c'è una risonanza andiamo a tagliarla grazie a tutti grazie a tutti Qua sento un'altra risonanza, proviamo a scendere un po' Ok, via Ok, andiamo a tagliare sotto i 70 Hz che non sento niente di importante Qua sento un po' Anche qua, andiamo a tagliare leggermente Ok C'è ancora qualcosa qua in mezzo, vediamo se lo troviamo Ah, sbagliato Eccola qua, famosa scatola Via Ok, andiamo ad aggiungere un 2 dB per cercare di matchare il volume Perché matcho il volume? Perché naturalmente stiamo andando a fare un'equalizzazione sottrattiva Quindi stiamo togliendo informazioni al nostro audio principale Quindi questo ci porterà a diminuire il volume in uscita Quindi se vogliamo avere una comparazione tra il prima e il dopo reale Non dobbiamo essere ingannati dal volume Quindi aumento il volume di uscita del mio equalizzatore Così da avere un volume uguale a quello di ingresso Ok Quindi proviamo a sentire la differenza con e senza equalizzatore Ok, mi sembra molto più chiaro, più pulito Spongiamo anche la cassa Prima Dopo Molto meglio Snare down Quindi andiamo sul microfono della cordiera Quotto Allora, solitamente io qua tolgo anche le basse che non mi interessano Quindi più o meno sotto i 700 Hz possiamo provare a tagliar via tutto Vediamo cosa succede Forse un po' troppo Ok, mi piace Quindi andiamo a fare un po' di pulizia Cerchiamo la scatola o frequenze risonanti Questa non mi piace troppo Via Andiamo avanti Intorno ai 4000 Hz c'è sempre qualcosa Quindi state all'occhio Mi raccomando C'è più all'orecchio Viva le battute Ok, taglio via Non mi piace Dobbiamo fare ancora un giro Vediamo se troviamo qualcos'altro Qua sento un po' di scatola Andiamo a tagliare leggermente ma non troppo Vediamo la differenza Come c'è del volume Diamogli un 3 decibel perché abbiamo tagliato tanto qua Prima Andiamo un po' a tagliare ancora un po' di basse Vogliamo che qua non ci sia schifo Eccola qua Via Pesidiamo insieme Prima Dopo Ok, il volume dello snare da è un po' altino Prima Ok, procediamo adesso con il tom 1 Quindi mettiamolo in solo Q8 Andiamo a cercare una parte nel brano in cui c'è il tom Che è questa qua Ok Cerchiamo subito la scatola In giro Ok, tagliamo Basse Vediamo come sono Ok, diciamo che sotto i 100 Hz C'è poco Proviamo a tagliare sotto i 100 Hz Ok, ci sta Cerchiamo risonanze qua sulle basse Che sento che c'è qualcosa Ecco, stiamo attenti a non confondere le risonanze In questo caso con la coda Del nostro tom Eccola qua Eccola qua Allargare un po', non vorrei togliere troppe basse Ok Vediamo cosa c'è ancora Ok, qua c'è qualcosa che non mi piace Leggero cut Ok, tagliamo anche qua Leggermente Vediamo un'ultima controllata Non mi sembra ci sia tanto altro Anche qua possiamo tagliare leggermente Ok, proviamo a sentire la differenza Prima Molto più controllato Andiamo a dargli un po' di volume Perché Prima Dopo Molto meglio Molto meglio Partiamo col timpano adesso Quindi vediamo dove si trova Un pezzo di timpano Eccolo qua Ciao Così Ok, mettiamo in solo V8 Sempre Cerchiamo sempre prima la scatola Eccola qua Subito Prendiamola al centro In realtà un po' di in su Eccola qua Eccola qua Questa qua Tiriamo via tutto Ok, vediamo le basse Come si comportano Qua ci sono basse Andiamo a tagliare sotto i 40 Hz Ok, stringiamo un po' di in su Cerchiamo risonanze Ok, stringiamo un po' Qua possiamo tagliare un po' Qua c'è qualcosa Andiamo Via E qua c'è un po' di scatola Vediamo quanto fastidio da Vediamo un po' Sentite questo fischio È sempre più o meno Sui 4.000 4.500 Hz Io lo tolgo praticamente sempre Via Ok Proviamo a sentire la differenza Diamo un po' di volume 3 decibel anche qua Ok Ok Molto molto più pulito Mi piace Mi piace Over Aggiungiamo il Q8 Clicchiamo innanzitutto la scatola Abbiamo visto prima che sui 2.000 Hz C'era qualcosa Qua Via Io taglierei tutto ciò che si trova sotto i 400 Hz Proviamo Vediamo se è troppo Forse un po' troppo Scendiamo un po' Voglio comunque un po' di bassi negli over Per io Ok Così mi piace Vediamo che risonanze troviamo Faccio qualcosa Faccio qualcosa Togliamo via Ok Ecco Sentite il fisco di cui vi parlavo prima Questa qua è una risonanza Veramente fastidiosa Via Ok Andiamo più su Qua cosa c'è Anche qua sento qualcosa di fastidioso Sui 14-15.000 Hz Proviamo a stringere un po' il Q Tagli un po' Per sentire la differenza Prima Andiamo a dargli un po' di volume Anche qua Anche qua un 3 dB Ok Mi sembra molto meglio Proviamo a sentire tutto nell'insieme Dimenticato il loop Ok Proviamo a togliere tutti gli equalizzatori Prima Dopo Ok Sentite che adesso il suono è più chiaro Più definito Più pulito Ecco Questo per me è l'obiettivo dell'equalizzazione sottrattiva Andare a preparare la sessione Per poi fare il mix Andare a togliere tutte quelle frequenze Che non c'entrano con un determinato suono Perché per esempio Il nostro rullante Abbiamo tagliato tutto ciò che si trova sotto i 70 Hz Più o meno Perché sotto i 70 Hz Non c'erano frequenze che interessavano il nostro rullante C'erano frequenze per esempio Di rienti della cassa Di tom Dell'ambiente Frequenze che andavano poi ad impestare il nostro suono Quindi il suono era tutto molto più confuso Ok Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate Se utilizzate questa tecnica Se ne utilizzate altre Bisogna dire che l'equalizzazione è un qualcosa di molto personale Cognuno può utilizzare in mille modi diversi Per dare un particolare sound al brano Per dare un particolare stile a quel determinato suono Però devo dirvi che questa tecnica io la utilizzo sempre E mi trovo sempre molto bene Mi aiuta ad avere una visione molto più chiara Di quello che poi dovrò andare a fare Ci vediamo in un prossimo video Ciao